Salve a tutti gente e bentornati in questa nuova recensione per Spider-Man Across the Spider-Verse. Prima di cominciare ragazzi io vi ricordo come sempre che questa sarà una recensione spoiler, quindi se ancora non avete visto il film vi lascio qui in alto a destra la recensione senza spoiler, dove troverete comunque il mio parere generale sul film senza citare i dettagli più importanti. Detto questo ragazzi direi che possiamo partire e vorrei iniziare da una delle cose che forse mi ha sorpreso di più del film, ovvero lo stesso Miguel O'Hara, perché questo Spider-Man è stato fatto da Dio e anche se ci viene presentato come una sorta di secondo villain del film, ho percepito sia le sue motivazioni che le motivazioni di Miles, quindi uno degli aspetti in cui riesce di più questo film secondo me è anche proprio la creazione di questo conflitto che mi ha ricordato sotto certi aspetti quello che ho provato in Civil War, perché anche in questo caso fai molta fatica a schierarti e capire chi ha ragione e in particolare con Spider-Man 2099 sono riusciti a non trascurare il villain principale del film, ovvero The Spot, creando non una ma due minacce per Miles, che tuttavia non hanno tolto spazio l'una all'altra, proprio perché sono riusciti a caratterizzare entrambi i personaggi come si deve dandogli lo spazio che meritavano. E anche in questo verso il film è molto più ambizioso di Into the Spider-Verse, perché comunque considerate che le dinamiche multiversali che ci vengono presentate in questo film sono molto ambiziose e difficili da gestire, eppure a mio avviso questa pellicola ci riesce benissimo, così come di fatto a caratterizzare anche gli altri personaggi principali, lo stesso Spider-Punk che comunque ruba la scena in tantissime sequenze, il villain principale che è stato fatto a dovere, e poi soprattutto Gwen e Miles, perché in questa pellicola secondo me si percepisce ancora di più quanto questi due personaggi siano effettivamente il fulcro di questa storia. Quindi secondo me i ragazzi hanno gestito nel modo migliore tutta questa situazione, dando ad ognuno lo spazio che meritava, rispettando la gerarchia di importanza dei personaggi. E questa è una delle cose che mi ha reso più felice per il film, perché pur avendo introdotto il cameo dello Spider-Man di Toby e dello Spider-Man di Andrew, così come tantissimi altri cameo degli Spider-Man più famosi, non hanno assolutamente tolto spazio e importanza a quelli che sono i veri protagonisti della storia, ovvero Miles e Gwen. E' una delle scene che mi ha emozionato di più di tutto il film, è proprio quando vediamo il combattimento tra lo stesso Miles e Spider-Man 2099, perché tutte le frasi che Miguel O'Hara gli rivolge, riferendosi a lui come un errore, sono state tematiche molto pesanti, affrontate molto bene. In quel momento particolare del film infatti, avevo la pelle d'oca per quanto mi fossi medesimato in Miles, ma poi vogliamo parlare del fatto che da quando sono uscito dalla sala, non sono ancora riuscito a smettere di riascoltare tutto l'album del film. Ce l'ho letteralmente in loop tutti i giorni, e non riesco a non ripensare a tutte le scene che mi vengono in mente ascoltando la colonna sonora, che ripeto essere veramente perfetta. Probabilmente addirittura si adatta meglio alla trama rispetto a quella del primo film, anche se entrambi gli album sono davvero pazzeschi, e tutte le colonne sonore dei personaggi sono fatte benissimo. Tra l'altro ragazzi ho visto considerare questo film al di sotto di Into the Spider-Verse da alcune persone, perché non finisce e non ha un finale. E ovviamente ragazzi sono opinioni, quindi anche se non si condivide si rispetta comunque, però questa cosa mi fa sinceramente un po' ridere, perché a mio avviso sarebbe come dire che Infinity War non è stato un film migliore di Endgame, solamente perché non ci sia quel finale vero e proprio. Ovviamente capisco che il terzo atto del film non abbia una vera e propria conclusione, ma questo non significa che tutta la pellicola ne risenta. Anzi vi dirò di più, il film termina letteralmente alzando sempre di più l'intensità, e questo ti fa chiaramente vivere l'ultima parte ancora più intensamente. Quindi non vedo come si possa svalutare l'opera in sé, perché questa escalation finale di emozioni, rende l'ultima parte del film ancora più bella secondo me. Tuttavia ragazzi vi ripeto sono opinioni, ed è giusto rispettarsi a vicenda, ma ora dobbiamo assolutamente parlare di una delle cose più importanti, anzi direi due delle cose più importanti, che mi hanno fatto letteralmente andare fuori di testa in sala, perché non credevo ai miei occhi. Per prima cosa ragazzi sapete già quanto è importante Marvel Spider-Man per questo canale? Ebbene non ci hanno dato un easter egg sullo Spider-Man di Insomniac, ma ce ne hanno dati molti di più. Per prima cosa infatti vediamo giocare Genki nella stanza di Miles Marvel Spider-Man 2, e qui ragazzi al cinema onestamente non avevo percepito questa cosa, perché avevo visto il controller PS5, ma non avendo visto la console, ero più focalizzato su quella che sul gioco che stesse giocando. Ma riguardando le immagini che sono sul web, che non vi metto ragazzi perché altrimenti mi buttano giù il video, si vede chiaramente l'interfaccia di Marvel Spider-Man 2 che vediamo nel gameplay, e io in sala non ci avevo proprio fatto caso, perché inizialmente pensavo che stesse giocando la remastered di Marvel Spider-Man, eppure hanno davvero piazzato Marvel Spider-Man 2 nel film. Ti ho detto sinceramente ragazzi non vedo l'ora di rivedere. Ma cosa più importante, oltre a questo easter egg, vediamo lo Spider-Man di Insomniac da vicino tre volte nel film, in quella che presumo possa essere la sua versione fumettistica, e nella versione originale di PlayStation. E vi giuro ragazzi che io in sala non stavo capendo niente in quel momento, anche perché nello stesso istante ci hanno piazzato Prowler, interpretato da Donald Glover. Quindi oh mio dio sono rimasto dieci minuti letteralmente in shock dopo quella scena, perché ad esser sincero era completamente inaspettata. E chiaramente pur sapendo che questo film avrebbe trattato il multiverso, ero super emozionato per certi cameo, come lo stesso spettacolo Art Spider-Man per esempio, però non mi aspettavo assolutamente così tanto, perché vedere questo personaggio mi fa davvero sperare per Spider-Man 4, e anche per un'introduzione di Miles nell'MCU, che comunque spero possa essere fatta nel migliore dei modi. Infine ragazzi una delle cose che mi ha stupito di più in assoluto, è che sono riusciti ad inserire anche l'universo Lego, e questa è anche una delle cose che ho apprezzato di più, perché anche quella scena del film è stata fatta benissimo. Quindi gente, io direi che per la parte spoiler di oggi abbiamo finito, mi raccomando se ancora non avete visto la parte senza spoiler andate a recuperarla, perché in questa recensione ci sono chiaramente alcune cose che non ho ripetuto apposta. Io come al solito intanto gente vi ringrazio di essere stati qui con me, e noi come al solito ci vediamo alla prossima.